Mimmo, si parla tanto in questo periodo del mondo della scuola perché chiaramente in questo periodo di pandemia ci sono delle situazioni che vengono messe in evidenza. Però dobbiamo dire che per quanto riguarda la Calabria e il nostro territorio siamo ancora fortunati. Sì, siamo fortunati rispetto a quello che sta avvenendo anche in altre parti del Paese. Ieri il DPCM con i nuovi contenuti, diciamo le novità sono poche rispetto a quello che c'era in precedenza, ha messo in rilievo alcune criticità. Noi abbiamo visto che ci sono parecchie zone rosse in Italia, quindi in queste zone si procederà, secondo quelle che sono le nuove disposizioni del DPCM, alla chiusura totale delle scuole in ogni ordine ciclo. Mentre prima la chiusura ricordava soltanto il secondo ciclo, quindi non si è mai pensato di chiudere il primo ciclo. Adesso con la variante inglese si sta pensando, in effetti si danno queste disposizioni e poi la possibilità di chiudere nelle zone arancioni e gialle, laddove c'è un indice di contagio che pare a 250 su 100 mila abitanti, nell'arco di sette giorni, questo è importante anche specificarlo. Parliamo della variante, in Calabria sono stati trovati 11 casi di variante inglese. Pare che stiano aumentando, io stamattina leggevo, se non sbaglio sono 11 adesso, quindi su Cosenza, forse anche su Bibo, era nell'area, comunque voglio dire, non è grave la situazione come in altre realtà, quindi non... C'è bisogno di maggiore tutela per gli studenti della scuola primaria? Gli studenti vanno tutelati innanzitutto dal punto di vista dell'equilibrio psicofisico, secondo me. Nel senso che tutta questa discussione e questa polemica che è nata in questi mesi non fa bene a loro. Poi è chiaro che occorre intervenire in maniera anche incisiva, cosa che non si è fatta abbastanza, dal punto di vista dei presidi sanitari sui posti di lavoro, dal punto di vista dei trasporti e dei dispositivi individuali di protezione. Quindi questo credo che sia un elemento imprescindibile. Poi possiamo parlare di tutto, però se mancano questi presupposti è chiaro che la discussione va a finire sulla scuola aperta o scuola chiusa. Grazie a tutti.